Per lui e per la squadra. Non si butta dentro. Bel canestro da parte di Taflai. Cadenza. Cadenza di rotazione. Farai. Segna. Non va fino in fondo. Serve Taflai che tira sulla sirena. Rimessa per Taflai. La difesa di Vencato. Taflai. Mano educatissima. La persa da Montegranaro. E dunque rivoluzione di Ciani che cerca di trovare un po' la quadratura del cerchio. Mentre arresta e tiro da manuale. Conduceva 8 a vero in pieno spolvero. E ora invece vede la formazione di casa inseguire. Taflai si mette in proprio. Tiro. Allora una schiacciata. Molto sul pezzo. E davanti a degli avversari. Rallentare i ritmi. Furfe per Taflai. Se la prende lui la tripla. Del palenzo! Il contatto non falloso. Sbagliando il tiro. Taflai si alza. Da tre punti. Va a realizzarlo. Seguiamo l'attacco delle naturelle. Da Bauras il ribaltamento per Taflai. La tripla di Taflai che segna. Bauras ancora spalla a canesto contro Ferguson. Arriva l'aiuto di Ferraro che poi deve recuperare su Taflai. E va da Bauras. Prova ad attaccare Ferraro. Che però tiene difensivamente. Taflai si alza ancora da tre punti. Peccato per Ferraro. Taflai da tre. Questa volta va a prendere posizione sotto Ingrosso. Si arma il braccio di Taflai. Da tre. Segna Ivola. Perché ha bisogno di rifiattare un attimo. Eccolo Ingrosso. La buona palla per Taflai. Allo scadere! Velocità. Va a finire a Valentini. Mancano ancora 11 secondi. Prova. La vuole dare anche da solo. Ingrosso per Valentini. Due secondi per il tiro. Taflai ancora. Lo scadere! Ma è lui l'uomo! Per la formazione ospite. Seguiamo il primo attacco Imola con la tripla aperta. La parte di Taflai. Tre da 4.25 e anche il 26. Ci riprova nel frattempo Taflai. Imola muove bene la palla. Bowers. Per Taflai. Liberissimo per il tiro da tre. Taflai la mette. Permane. Vantaggio naturelle. Bowers per Taflai. Si sente in fiducia. Va da tre! Va da tre! A chiudere la difesa. Anche adesso c'era un discreto fallo su Bowers. Liberissimo Taflai che si toglie finalmente. Zero su tre. Pochi sbagliati. Imola comunque sta un po' provando a privilegiare il... Ecco, ci smentisce subito. Riesce veramente a mettere in difficoltà Imola e su diverse palle perse. Il primo quarto. Molto avanti. Taflai ottimamente servito da... Questo aspetto, anche se è bene e buono, noi...